Eccoci qui arrivati alla nostra lezione di lingua inglese. Noi oggi parleremo delle categorie dei vini, quindi caratteristiche legate in base al colore, in base al gusto, in base alla regione. Parleremo delle più importanti caratteristiche di questa bevanda consumata proprio in tutte le tavole del pollo. Parleremo in inglese, dopodiché faremo una traduzione in italiano. Alla fine ti verrà chiesto di elaborare un riassunto di 50 parole in cui dovranno essere elencate le caratteristiche dei vini. Ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro. Te ringrazio e ci ringrazio. E so, le caratteristiche di vino e le caratteristiche di vino. style. So wines can be classified into two categories. We know white wines and we know red wines. It depends on their color. We know that wine can be dry, can be sweet and can be medium. Now let's see what the characteristics of wine. So red wines are color wines. They are made from red grapes. And they get the color by lowering the skin of the grapes. The most popular red wines are Cabernet, Merlot, Pinot, Zinfandel. White wines are colorless. They are made from the white grape varieties. And there are some white wines which can be made from the red grapes. The most famous white wines are Chardonnay, Paisley, and Sauvignon, Blanc, and Gewürztraminer. Those wines, but those wines aren't red. But they are prepared for the red grape varieties. The Fandel is a rose wine. We know that wines can be sparkling. And the sparkling wine, we know, is champagne. We know it was champagne. And the sparkling 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 red wine. Then we know, sweet wine. Then we know, sweet wine, or terse wines. They are sweet and they can be served with, had served, at the end of every meal. We know, sweet wine. We know, sweet white wines. We know, sweet white wines and sweet red wines. Fortified wines, they are produced with the smooth addition of the grape spirit. The most famous are cold wine, made area, and cherry. And wines without name origin are cold dry wines. The most stable wines are dry white wine, rose wine, dry red wine. Allora, che cosa dobbiamo dire noi a proposito di questa lezione? Dobbiamo dire che i vini vengono classificati in base al tipo di uva utilizzata e in base alla regione in cui l'uva viene coltivata. Ci sono differenti tipi di vino. Noi conosciamo vini bianchi che non hanno colore e invece un vino rosso che ha un colore intenso. Vengono anche classificati in base al loro gusto. Allora, conosciamo quindi in base al gusto dei vini secchi, vini dolci e vini dal sapore medio. Andiamo ecco ad analizzare più da vicino le caratteristiche di questi vini. I vini rossi vengono fatti con dell'uva rossa. I più popolari sono il cabernet, il merlot, il pinot. Poi abbiamo i vini bianchi che vengono fatti con uva bianca e abbiamo anche alcuni casi in cui il vino bianco viene prodotto attraverso dell'uva rossa. Abbiamo vini rossi, Chardonnay, Riesling, Sauvignon e Gerwitz. Vini bianchi, Chardonnay, Riesling, Sauvignon e Gerwitz. Questi sono i vini bianchi più bevuti nelle tavole degli italiani. Poi abbiamo dei vini rosati che non hanno proprio un colore rosso vero e proprio e vengono preparati comunque sia prodotti con uva rossa. Abbiamo poi i vini frizzanti e lo champagne è uno dei vini frizzanti più bevuti, oltre al prosecco. E poi abbiamo vini dolci o da dessert che possono essere serviti alla fine del pasto. Hanno un sapore molto dolce e Noblerot, Highs Wine, Late Harvest sono i vini bianchi da dessert più conosciuti. I vini rossi da dessert più conosciuti abbiamo Late Harvest Wines e Fortified Wines. Poi abbiamo l'ultima categoria di vini che sono vini licuorosi che di fatti vengono prodotti con un po' di alcol prodotto dall'uva. Possono essere sia secchi o dolci e abbiamo queste tre categorie, Port Wine, Madeira e Sherry che sono i vini licuorosi più bevuti. E poi abbiamo vini da tavola senza un origine e i più famosi sono vini rosati, possono essere bianchi secchi o bianchi rossi secchi. Facciamo quindi un assunto di 50 parole in cui elenchiamo le caratteristiche dei vini, quindi vini rossi, bianchi e rosati, con che tipo di uva vengono prodotti, citare qualche vino rosso, qualche vino bianco e qualche vino rosato più bevuto, parlare anche di vini da dessert dal sapore dolce oppure da vini con bollicine e poi vini licuorosi invece i vini da tavola. Quindi magari elencare qualche nome che magari sia il più bevuto nelle nostre tavole. Ti ringrazio e ti auguro una buona lezione.